Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Assume i valori. Assume proprio il valore della cittadinanza. Abbiamo una destra. Il tema della sostituzione etnica è un tema non sopito. Quattro mesi che ha il governo. Ma cosa stai dicendo? La destra è da quattro mesi al governo. Adesso è colpa del governo di centro-destra. Dite delle cose. Questa è una sciocchezza che sta dicendo lei. La destra sono anni che si oppone. Ma che cosa? Da quattro mesi al governo. E' una vergogna che infatti va a 22 anni in nato della cittadinanza. Sono anni. 10 anni. C'è stato una scelta del governo che non gliel'ha data. Va bene. 10 secondi. Ma io sono contento.